Musica 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 Ma che cosa? Sembra che ci sia un ostacolo, signor Jean Grey Musica 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 Bello Un accident W then Да Removi They said why don't you clear it, so that we can get pass What's that accent O americans They are all are business Sì, sì. Sì, dov'è essere dovuto? Sì, sì. Sì, dov'è essere dovuto per te fucking Yanks, fino a 19-18. Sì, dov'è essere clear in 20 minuti, ok? Sì, ok. Grazie, officer. Sì, è vero. Sì, è vero. Talking about the war. Everything here is about the war. Come on, let's go move with ourselves, fucking idiots. What's this? Which wagon is that? They're gypsies. Tribe of fucking gypsies. Oh, we can move it, all right? I said it would be clear in 20 minutes. Let's go. Hold on, another way out of here. Go. Get us the fuck out of here.